C'è un altro contributo importante da vedere. Sì, perché non tutti la Befana ha potuto visitare, perché qualche attività sportiva purtroppo è ferma. Ci sono delle norme, delle regole da rispettare e prima abbiamo visto il basket dei grandi che si sta allenando. Il basket dei piccoli e il basket della disabilità, come vedremo, purtroppo è fermo. Ma sono società storiche della Befana, sono qua con noi da 30 anni e non potevano mancare. Vediamo che ci chiamano. Allora, vediamo tra un attimo. Per un attimo saluto Andrea Poltrunieri. Andrea, ci vediamo poi tra una mezz'oretta circa. Tra mezz'oretta torno e... Ok, a tra poco. Ciao, a dopo. Vediamo adesso dunque. Speriamo di prendere insieme dopo. Vediamo i piccoli del club, Scuola Basket Ferrara.